Allora Corona, è casuale che il tuo gol coincide con la prima vittoria oppure, comunque da parte la battuta, c'era tanta voglia e tanta determinazione oggi no? Sì, sono tanta voglia di chiudere l'anno con una vittoria, anche perché dopo i due passi passi, non voglia di riscatto ci siamo riusciti, non giocando forse bene perché su questo campo era difficile fare, però bisognava essere concreti e al di là di tutto penso che i tre punti erano una cosa più importante per oggi. Ti sei fatta un'idea di questo tipo di campionato dal punto di vista tecnico dopo tre partite? È un campionato dove prepara l'erogismo, la cattivega, la matramica, noi dobbiamo mettere queste tre cose se vogliamo risiedere da chi? Penso che oggi, specialmente nel primo tempo, c'è stato tutto questo.